Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi vi faccio vedere come installare e giocare Minecraft su PSP, la community del modding su queste console è davvero qualcosa di incredibile. Grazie a persone molto abili sono possibili progetti come questo, quindi un porting a tutti gli effetti di Minecraft. Ovviamente non parliamo del gioco originale in scala 1 a 1, ma parliamo di appunto un tentativo di replicare Minecraft su questa console. Che vi devo dire la verità, è fatto molto bene e esiste già da diversi anni, ma di recente lo hanno aggiornato e questo aggiornamento ha portato diverse migliorie. Che poi vi farò vedere alla fine del video, perché principalmente questo video si tratta di questo, ovvero di farvi vedere come va. Perché alla fine a installarlo non ci vuole davvero niente, però ve lo faccio vedere comunque. Installare Minecraft e metterlo sulla PSP è davvero molto semplice. Ora vi faccio vedere al volo come si fa, basta collegare la vostra PSP al PC tramite un cavo USB e andate nella cartella PSP, Game, e qua all'interno ci saranno, diciamo, tutte le vostre applicazioni, tra cui anche Minecraft, che vi lascio il link in descrizione per scaricarlo. Vi lascio direttamente la fonte originale, così potete anche vedere bene di che cosa si tratta. E vabbè, lo scaricate, poi estraete la cartella e la mettete dentro la cartella PSP Game. Questo è tutto quello che serve. Ora ci basta semplicemente staccare la PSP ed avviare il gioco. Ecco, ora che abbiamo scaricato Minecraft ci basta semplicemente andare nella lista dei giochi, quindi Memory Stick, e eccoci qua, Minecraft PSP Edition, vabbè ci basta semplicemente avviarlo. Questa è la schermata principale. Ci chiedete a scegliere tra due lingue, ovviamente solo due perché comunque è già un miracolo che sono riusciti a fare Minecraft su sta console, quindi penso che aggiungere un supporto a più lingue sia qualcosa di improponibile. Comunque, l'inglese a noi ci va più che bene e qui vi faccio vedere al volo cosa si può fare. Addirittura noi possiamo modificare la RAM disponibile da 64 o 32 MB, comunque penso che 64 vada più che bene. Possiamo addirittura modificare i controlli, che in realtà voi penserete ma i controlli saranno impossibili visto che non c'è un secondo analogico. Invece vi devo dire la verità, è più semplice del previsto. Vabbè, possiamo addirittura modificare le sensibilità, insomma qua ci stanno un sacco di cose. Poi in About possiamo vedere i sviluppatori e poi texture addirittura. Io qui non ho idea di come si mette in una texture pack, però se c'è questa opzione vuol dire che si potrà fare. Eccoci in game. Questa qua è come si presenta la schermata di Minecraft appena aperto il mondo. Questo è un mondo già aperto. Come vedete c'è tutto, c'è il fall damage, c'è la possibilità di andare sott'acqua. Vabbè, sembra Minecraft quello originale, però ovviamente non lo è. C'è da dire che c'è anche qualche bug, ma è normalissimo per un progetto del genere. Anzi, come vedete è già un miracolo che gira tutto fluido. Il gioco è stato ottimizzato molto bene, questo c'è da dirlo. E ora vi faccio vedere al volo i comandi. Come già avete potuto intravedere, con l'analogico sinistro si sposta il personaggio. Con i pulsanti cerchio, quadrato, x, triangolo. Spostiamo la visuale e con select si salta e con start, vabbè, ovviamente si apre il menu di pausa. E per aprire l'inventario si fa L più R. E qui c'è tutto il sistema di crafting e di inventario, che è molto semplice, avendo delle frecce direzionali. E con L si spacca e con R si piazza il blocco. In realtà avrei preferito di più il contrario, ma come abbiamo potuto vedere i comandi sono cambiabili dalle impostazioni. E ora vi faccio vedere giusto al volo cosa devo fare per craftare qualsiasi cosa praticamente. Quindi vabbè, si spacca il blocco, si apre l'inventario e con le frecce facciamo così. E per craftare facciamo di nuovo L più R. E vedete che mi ha messo in mano il risultato finale, ovvero gli assidi di legno. Vabbè, poi c'è, che altro che devo far vedere? È Minecraft. Grazie.